15 e 37 minuti, eccoci di nuovo in diretta da studio qui a Roma. Parliamo ancora di economia, ma lo facciamo attraverso un dato di cronaca, perché la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta contro i gnoti per i tassi ballerini Euribor. Ricordate, già ha avuto molto clamore e continua l'inchiesta sempre dalla Procura di Trani sulle ipotesi di reato da parte dell'agenzia di rating Moody's per speculazioni. Qualcosa di simile c'è. Sono ancora una volta i consumatori italiani che lamentano danni, in questo caso per quanto riguarda la decisione sul tasso Euribor per 3 miliardi di lire. In studio con me c'è Rosario Trefiletti, presidente di FederConsumatori, insieme a Audusbef avete dato il via a questa iniziativa. Proprio così. Però la fermo, perché vediamo prima al servizio di Pino Finocchiario, facciamo un po' il punto della situazione, poi ci sono tante domande per lei. Assolutamente. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta penale sullo scandalo dei tasti di riferimento bancari Euribor, sollecitata dalle associazioni Adusbef e FederConsumatori. L'indagine è stata avviata dal PM Michele Ruggero. La Procura di Trani indaga danni sulle carte revolving usuraie emesse dalla Barclay Bank, solo una delle banche europee coinvolta nello scandalo. Il fascicolo che indaga sui tasti Euribor e Libor applicati dalle banche sui più diffusi mutui per acquisti, ad esempio quelli per auto, è aperto contro ignoti. Il PM Ruggero ipotizza i reati di truffa gravata e grave manipolazione dei mercati, reato punibile con 12 anni di carcere. Sempre Ruggero, entro luglio, chiuderà l'indagine su Mutis, Standard, Pur e Fitch. Secondo Adusbef e FederConsumatori, Michele Ruggero ha costituito un pool di esperti indipendenti per accertare le manipolazioni dei tassi Euribor sulla scorta dell'inchiesta avviata dagli esperti della Guardia di Finanza. I consumatori italiani, secondo l'Adusbef, avrebbero subito danni per 3 miliardi di euro. Insomma, l'applicazione fisarmonica dei tassi di interesse avrebbe impoverito ulteriormente i consumatori italiani con grave ripercussioni sulla capacità di spesa e sulla produzione industriale. I tassi Euribor ed Euribor hanno ogni giorno ricaduto immediato su prestiti bancari per 350 miliardi di euro. Nostro ospite in studio, Rosario Trefiletti, presidente di FederConsumatori. Benvenuto, ben ritrovato a Rai News. Trefiletti, insieme a Adusbef, avete dato il via in questa iniziativa. Posso chiederle subito come mai la procura di Trani? Perché ce lo stiamo chiedendo in molti, chi non l'ha già scoperto, dai tempi in cui sono partite, come ricordato nel servizio, le indagini su Mutis e le altre agenzie di rating. Beh, grande sensibilità e anche grande competenza. Perché Trani ha sempre risposto alle denunce che noi abbiamo fatto, sono state ricordate nel bellissimo servizio che avete fatto voi, quando già indagava sui tassi di interesse delle carte Revolving, i tassi usurari. E quindi c'è già un inizio importante da parte della procura di Trani. E a quanto pare si stanno specializzando ulteriormente. Allora, questo è il motivo, perché Trani, ma nel caso specifico, qual è l'ipotesi? L'abbiamo sentito, l'Euribor, Euribor che sia, è quello che proprio poi quando si vanno a chiedere soldi in prestito per comprare casa, anche per fare un mutuo, per comprare l'auto, incide veramente tanto. Sì, e non solo, anche per esempio su tutti i contratti dei derivati, che ha emesso uno decine e decine di miliardi di euro che sono stati immessi nel circuito finanziario italiano. Quindi la ricaduta sulle stesse carte di credito, sulle questioni dei mutui, sulle questioni dei derivati, insomma, le ricadute, qualora si confermassero manipolazioni sull'Euribor, come già si è dimostrato la manipolazione sull'Ibor, che è l'altro tasso di riferimento del mondo anglosassone, dove lì ormai è stato accertato un danno incredibile e multate le banche per cifre di 280 milioni di sterline. Quindi lì è già stata accertata la cosa. Qui noi vogliamo che si accertino.